L'anno 2021, il giorno 13 del mese di febbraio, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento il Professor Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie a tutti.